ciao volevo completare un pochettino questa scena vediamo come possiamo integrare questo disegno 2d con degli elementi in 3d perché spesso può capitarci di volerlo fare allora creo una mesh facciamo che il gatto si trovi sopra a qualcosa in questo caso sono in modalità 2d animation e quindi il mondo è di questo colore qua completamente bianco e questo è il motivo per il quale vediamo bianchi questi elementi potrebbe essere su un divano e cerco di creare in questo caso per semplicità perché può essere più semplice farlo posso provare a creare il divano in 3d non farò un lavoro magari super raffinato creerò un divano un po finto diciamo grazie a tutti allora per semplicità ammettiamo che la situazione sia questa adesso mi sposto in visione renderizzata devo cercare di utilizzare dei materiali che somiglino a quelli del mio oggetto e quindi qua mi manca la sezione di shading ma la posso tranquillamente andare a creare shading allora se voglio un aspetto piatto la cosa migliore è utilizzare i materiali adesso qua crea un nuovo materiale per il divano e quindi facciamo divano e usare dei materiali di tipo emissive quindi ho il valore di emission qua sotto che può darmi il colore porto prima il colore base a zero e magari anche poi insomma dipende però se io su emission pesco per esempio il colore del cuscino vedete corrisponde molto o ancora degli effetti 3d diciamo si vede un pochino l'effetto della luce se lo volessi cancellare del tutto porto la roughness a 1 altrimenti come vedete riesco anche a comandare un pochettino in questo modo non ho nessuna ombra in questo caso però potrebbe essere esattamente quello di cui ho bisogno insomma adesso ho assegnato anche a questo divano nel caso qua della stanza creo quindi un materiale di nuovo parto da quello del divano io spesso uso questa tecnica per ricreare dei materiali simili e magari quale mission la scelgo di un altro colore questa parte qua a parte che potrei anche separarla dal resto dello sfondo p selection giusto per semplicità questa la chiamo finestra questo materiale invece di divano diventa pareti ecco magari la parete qua possiamo usare i nodi e tutte queste cose quindi per esempio prendiamo la posizione nello spazio nelle informazioni della geometria geometri position vedete qui ci sono le coordinate nello spazio se io separo la x la y e la z e tengo per esempio solo la z eccola qua è questa sfumatura questa posso assegnarla a un gradiente a una color ramp queste sono tutte tecniche che ho anche un po approfondito nel corso che ho fatto sempre per l'associazione blender italia di shader cartoon e qui per esempio scelgo constant e posso fare una riga che divide tra due colori e quindi qua esco e scelgo magari un verde nella parte sottostante il colore qui va collegato alle mission ecco mentre invece la finestra finestra non ho bisogno di tutto questo setup posso prendere cambiamo completamente e poi invece questo qui in mezzo avrà un materiale diverso quindi qua faccio un materiale riprendo di nuovo quello della finestra lo duplico e lo chiamo esterno e questo qui dall'esterno posso lo assegno a questo pezzo e vediamo appunto la stessa tecnica però con con dei colori diversi e qua magari faccio proprio un vero e proprio gradiente questo è un piccolo esempio di colori che potrebbero andare d'accordo come vedete rispetto a utilizzare il normale 3d utilizzare emission mi permette di selezionare meglio i colori però potrei comunque voler avere delle ombre in questo caso mi serve una fonte di luce creo una luce in questo caso la crea di tipo sun e cerco di metterla nella stessa direzione in cui ho messo le ombre del del gatto che ho disegnato a mano in questo caso vedete la roughness ora si fa notare nel senso che vedo questo piccolo questo piccolo punto se la tiro via del tutto perdo del tutto le ombre però le ombre se io creassi sto sempre lavorando qua sul divano se io creassi qua un materiale di tipo diffuse e andasse a vedere come si comporta magari un materiale un po più grigetto vedete che c'è l'ombra non la noto tanto per via del world ma se il world io lo cambio ora non cambiano i colori perché sono di tipo emission quindi posso andare nel world a dargli il colore tipicamente se ho dato un certo colore all'ombra quindi se questo gatto nell'ombra nei materiali ombre c'è questo colore tipicamente nel world metto lo stesso colore e ottengo delle ombre simili ora questo divano se fosse diffuse vedete c'è l'ombra solo che siccome è di tipo emission me la perdo ma la posso riprendere comunque da qui su un materiale di fuse bianco posso andare a moltiplicarla se converto in shader to rgb il risultato di diffuse posso moltiplicarlo mix multiply e usare questo insieme al colore di emission quindi prendo il colore di emission e lo metto qui e dopo come risultato l'emission collego e ora vedete ho di nuovo l'ombra perché ho mischiato l'ombra che ho qui e che quindi posso anche diciamo con questo posso comandare quanto scuro è eventualmente colore ma mi conviene lasciarlo bianco con questo decido appunto di andare a mixarlo con il colore di risultato e quindi se riciclo questo pezzettino negli altri materiali posso ottenere la stessa cosa quindi qui per esempio nelle pareti posso andare a moltiplicare questo colore ottenuto lo moltiplico lo metto qua giù e lo metto come risultato e avrò ottenuto anche le ombre all'interno della stanza se non mi piace basta che abbassi se io cambio questi due e li switcho tra di loro quindi lascio l'ombra per secondo posso decidere con questo valore quanto utilizzarla nel caso della stanza in realtà posso tranquillamente rinunciarci però nel caso del divano è stato utile l'altra cosa che posso fare è utilizzare una funzione speciale di blender gris pencil che crea delle linee a partire da degli oggetti 3d per cui posso fare aggiungi un oggetto gris pencil se ho un oggetto selezionato come questo posso scegliere questa voce qui object line art cosa cosa fa blender vedete mi crea un oggetto gris pencil le cui linee sono create da questo oggetto l'oggetto nuovo e questo line art a un modifier adesso torno magari in to the animation per per vedere un po meglio questo line art a questo modifier che dice di utilizzare un certo oggetto e l'oggetto cubo per creare un layer di linee che si guarda che ovviamente io qui posso andare a scegliere il mio materiale delle linee e quindi invece di questo black io posso scegliere il mio materiale delle linee e poi nel nel materiale da creare posso creare questo dopodiché lui lo ha messo sul livello lines e quindi è finito diciamo in davanti a tutto quanto ora siccome questo modifier io posso metterlo in qualsiasi oggetto gris pencil infatti ne ha creato uno vuoto ma io posso utilizzare l'oggetto gris pencil questo quello del cuscino per esempio e invece di cuscino lo chiamo sfondo giusto per perché sia un po più chiaro crea un nuovo livello che sposto più in basso che contenga le linee dello sfondo linee dello sfondo e ora posso metterlo a mano qui tale modifier quindi il modifier è qui e si chiama line art e come tipo di sorgente potrei di nuovo dirgli oggetto il divano che non si chiama ancora divano divano se quindi a questo cuscino l'oggetto il divano sul layer linee sfondo con il materiale linee ecco che vedete siccome si trova su un layer che sta dietro il cuscino perché l'ho messo così nel mio oggetto gris pencil le linee non vanno più davanti al cuscino ma stanno dietro dovrei farne uno per ogni oggetto in questo caso mi viene in aiuto il fatto che posso creare quel modifier anche per una collection quindi prendo tutti gli oggetti dei quali voglio creare i bordi li aggiungo a una nuova collection che chiamo line art perché così so che è quella dove andrò a far funzionare il modifier di line art scelgo di nuovo il cuscino che ormai è tutto lo sfondo invece di object scelgo collection e la collection line art ed ecco che ho ottenuto le linee per tutti gli oggetti di sfondo e qui nelle caratteristiche posso anche decidere vedete line thickness di andare a cambiare lo spessore delle linee notate che questo modifier funziona solo se c'è una telecamera in scena e funziona appunto con la telecamera posso anche abbassare l'opacità o tante tante altre possibilità e qui anche decidere insomma gli angoli è molto è molto versatile su come creare queste linee posso andare a crearle anche vedete che ci sono gli edge mark quindi se io creo degli edge mark nella mia geometria per esempio se questo qua io lo marco come sharp mark sharp ecco che appare anche nel line art modifier ovviamente appare zizzagato perché ho utilizzato un subdivision e quindi diciamo che in questo caso quello che dovrei fare è control b in maniera da fare un pochino di bevel e ora lo creo a questo mark sharp ed ecco che è apparsa questa riga che prima non c'era questa qui che vedete non è nient'altro che quella che vista dalla telecamera crea effettivamente la riga nera quindi tra l'altro con questo sistema di mark sharp io posso anche fare delle linee che normalmente non ci sono se qui adesso io applico questa suddivisione o questa linea che di nuovo con tasto destro mark sharp posso andare a disegnare vedete sono riuscito a creare delle linee che prima non c'erano e questi colori sono molto costanti con quello che c'è in scena e per di più ho anche l'ombra che se sposto il sole posso cambiare leggermente adesso ho ottenuto qualcosa di carino se l'ombra è troppo leggera come in questo caso devo semplicemente scurirla un po prima del multiply posso utilizzare un color ramp che mi permette di spostare la gestione delle ombre ecco che ho creato un animazione che usa gris pencil e che nello stesso tempo però è fatta anche da elementi in 3d quindi abbiamo anche visto come integrare elementi tridimensionali con gli elementi di gris pencil la parte importante diciamo è creare degli shader che vadano d'accordo con lo stile di gris pencil un ultimo ritocco sarebbe quello di migliorare la qualità delle ombre e quindi di andare in shadows e di aumentare per bene i due valori anzi soprattutto questo perché il sun usa le cascade e quindi aumentare questo valore in modo tale che le ombre siano nette grazie e alla prossima